Torniamo ad occuparci in questo servizio della scoperta archeologica di contrada vocante di Santo Stefano di Camastra con numerosi reperti molto interessanti venuti alla luce, c'è un contenzioso tra la famiglia proprietaria del terreno e chi effettivamente ha effettuato la scoperta. Sentiamo Marina Re. Tra quei ruderi abbandonati ci sono mille anni di storia e di vita, ritrovamenti di età greco-romana scoperti e però abbandonati. Il tesoro archeologico ritrovato a Santo Stefano di Camastra in contrada vocante rischia di perdersi dietro battaglie legali e conflitti di attribuzione. Da una parte la famiglia Sansarello di Mistretta, proprietaria del terreno che ha denunciato la scoperta del mosaico nell'aprile 2008, dall'altra Sebastiano Bocia, un edicolante stefanese che ha segnalato i rinvedimenti nel marzo dello stesso anno. Un giorno mentre la fama sparge per caso ho visto che effettivamente delle teste di mosaico a terra, ma ricordiamoci il terreno che voi vedete non era così prima, era boscaglie sul vero senso della parola, non si vedeva niente. E guardando questi mosaico ho visto che ci deve essere qualcosa di importante sul vero senso della parola mia moglie. Ma oltre le controversie legali tra i privati, che ruolo hanno avuto soprintendenza di Messina e assessorato regionale? La revoca lo scorso luglio della concessione di scavo da parte dell'assessorato regionale, revoca prima concessa per quattro anni da famiglia proprietaria, servirà finalmente a tutelare e valorizzare i rinvedimenti? Come si può vedere, pur essendo stato scoperto ufficialmente nel marzo del 2008, ancora oggi siamo alla fine del 2013, il mosaico giace in uno stato che di tutela ben poco. Ci aspettiamo che la concessione di scavo non resti un atto su carta, ma prenda finalmente vita e si, come dicevo prima, tuteli in primis e si valorizzi quello che quel piccolo lembo di mosaico ci fa intuire esserci.